Giorgio Altare Giorgio Altare, quando vuoi qualcuno con i muscoli in mezzo al campo che ringhi e faccia paura, ecco che hai il difensore giusto. Giorgio Altare ha messo tutta la sua vehemenza, tutto il suo entusiasmo, tutta la sua forza agonistica in questa stagione del Cagliari. Chiaro, forse a un certo punto si è preteso troppo da lui, quella di fare il fraseggio, di gestire il posto palla, di poter dare ritmo alla squadra. Non è questo il suo ruolo e non essendo il suo ruolo è incappato in qualche disavventura, forse anche troppo feroce per quello che poi si è meritato sul campo. Dobbiamo dire che è un giocatore che può crescere, può crescere molto sul piano tecnico perché ha da imparare a velocizzare l'azione, a velocizzare anche il rinvio, anche il momento in cui devi cacciare lontano la palla. Da questo punto di vista è anche un giocatore che però non si tira indietro, che si allena con costanza, quindi se gli verrà chiesto anche qualcosa in più in termini di allenamento per poter essere all'altezza della situazione, sono convintissimo che lui ci sarà. Voto per Altare, 7,5.